ah finalmente ragazzi benvenuti in questo nuovo video finalmente sono in acqua l'ultima volta che sono stato in acqua era all'estero e ha una sensazione un po differente rispetto a un mese e mezzo fa non lo so cosa potrà accadere non so dove andare non so cosa fare non so che pesci pigliare non so solo che ho il motore quindi non farò tanta fatica l'unica cosa certa è questa prima esca ovviamente uso questa guarda non so neanche più capace a mettere il filo dentro l'occhiello è un pesce bichino si sa che quando io vengo a pesca il primo pesce che devo prendere è un bike si chiama spacca dita ma ciulla dita cd dita l'ospedale diretto 118 ehi l'uzzo di merda oh ma dimmi te che pesce gigante cavetanone che bello questo è un bel pesce ragazzi eh cioè l'ho visto a vista gli ho lanciato gli ho dato immediatamente basta vado a cavetani adesso è la mia fine cavetano day cavetano day un'altra cattura un cerchetto piccolino finalmente ho scappotato con quest'esca spettacolo adesso vi farò vedere il pesce ho detto cosa era prima cavetano day questo è un pezzo è arrivato un altro bel cavetano figata l'ho preso a jerk con la canna da casting figata ragazzi specialmente con quest'esca qua è stata una figata prendere adesso proviamo a prendere un altro a continuare figata Grazie a tutti. Una trota. Non ci credo. E dopo un sacco di anni sono riuscito a prenderne una. Incredibile. Incredibile. Ragazzi ho fatto jackpot. Vediamo se riesco a farvela vedere. Jackpot. Vici di amico. Ci vuole una marmorata adesso? Ci vuole una marmorata? Basta. Trotta dei ragazzi. Cambiato. Switchiamo. Trotta dei. Basta che vedano dei. Spettacolo. Basta di più. C'è un video. C'è un video. Ok. Eh...